Stella, la donna del triangolo con Alex Belli ed Elia Duran, rompe il silenzio e racconta la sua idea di amore libero e in che rapporti è con la coppia. Dopo essere stata nominata più volte come donna del triangolo tra Alex Belli ed Elia Duran, Stella rompe finalmente il silenzio. Nella casa del grande fratello Vip, l'attore aveva fatto il suo nome, definendola un'amica e tranquillizzando la moglie circa il suo rapporto con Soleil sorge dicendo che era come quello con Stella. Recentemente poi la showgirl venezuelana ha rivelato di avere un interesse anche per le donne, confessando il flirt con Aida Jespica e il rapporto a tre con il marito e un'amica, pur senza fare esplicitamente il suo nome. Ora Stella, attrice e assistente di Alex Belli, racconta la sua verità sull'amore libero e spiega in che rapporti è con la coppia, in una lunga intervista concessa a Libero Quotidiano. Stella conosce e lavora per Alex da diversi anni, collaboro con lui come stylist e ci conosciamo da tantissimi anni e posso dire di essere il suo alter ego per la creatività come fotografo di moda. Ha scelto di parlare per la prima volta per difenderlo, stufa di sentirlo definire un manipolatore. Stella sostiene che l'attore nella casa abbia mostrato la versione più reale di se stessa, senza nessuna finzione, nella casa del GFV, è stato semplicemente se stesso, non ha recitato, lui è così. Istrionico, pieno di vitalità. Tra loro due c'è un rapporto di complicità, amicizia, anche amore, ma in una forma diversa da quella tradizionale, io amo Alex e lui ama me, ma è un concetto di amore evoluto, siamo nel 2022 e ancora la gente non lo capisce e si ferma al pensiero del possesso e del sesso. Molti mi vedono come un'aliena, ma io sono me stessa, un'anticonformista in amore, magari prima o poi incontrerò una persona giusta, uomo o donna che sia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.